Sostenere le strutture ricettive alberghiere ubicate nei comuni montani duramente colpite dai rincari delle fonti energetiche dalla pandemia in precedenza. Questo è l'obiettivo del nuovo bando promosso da Regione Lombardia che è già aperto sul sito internet apposito. Con questa misura si contribuisce a sostenere l'attrattività del segmento montagna impattato prima dalla pandemia e successivamente dalle implicazioni della crisi conseguente al conflitto bellico. La promozione turistica dalla montagna, commenta l'assessore regionale al turismo Barbara Mazzali, resta una priorità soprattutto quando emerge la necessità di tutelare un sistema imprenditoriale che non può ribaltare sui turisti le conseguenze dell'incremento dei costi energetici. Con questa misura andiamo a sostenere e incentivare gli imprenditori dei settori montani. Si tratta di un bando molto importante, sottolinea Massimo Sertori, assessore regionale della montagna, che mette a disposizione risorse concrete per le strutture alberghiere montane. Gli operatori negli ultimi anni hanno fatto sforzi importanti per migliorare la ricettività e i servizi. Tutto questo, conclude Sertori, ha indubbiamente migliorato l'attività turistica, la quale però, come nel caso di questa misura, ha bisogno di un aiuto fattivo e coerente. La misura è destinata alle imprese che gestiscono alberghi, residenze turistico-alberghiere, condotel e alberghi diffusi in una sede aperta entro e non oltre il 31 dicembre del 2022 e ubicata in un comune lombardo totalmente montano. Lo stanziamento complessivo ammonta un milione di euro. Le domande potranno essere presentate, secondo una procedura automatica, sulla piattaforma regionale Bandi Online fino alle 12 del 25 ottobre.